Sarà trascesa. La mia vita di adesso è giusta o sbagliata? Commento. Come fa ad essere sbagliata una vita che è l'emanazione della tua attuale evoluzione? Certamente la tua vita attuale sarà trascesa dalla tua vita futura che sarà emanata dalla tua maggiore evoluzione ma adesso la tua vita è la migliore che tu possa avere.